Oh, è vero che sei comunista? Che noi preghiamo nella galera, camicia nera, trionfera! Che non ti salti più in testa di fare scioper a scuola, eh? Vabbè, ma allora scusa, i scioperi che fa Manrico vanno bene? E con i che faccio io no? Sì, i suoi siti no! Brava! Sono una compagna di sezione di Manrico, devo prendere dei volantini? Perché mio fratello quello l'avrà detto come una scusa, poi è abboccato. Si vede che mi piace abboccare. La prima regola è l'onore, vuol dire non tradire l'amico, non tradire la patria, non tradire l'idea. Cambia, non senti che sta sforzando. Perché non ti cominci un attimo pure a guardare un po' intorno? Magari ti accorgi che esiste pure qualcun altro. Ti puoi fare la ragazza di tuo fratello? Oh, ma che sei matta? No! Ma perché io non ti piace? Perché so facilità. Vieni qua! Sì, così mi vieni, eh? È certo! In Italia! Cioè voi veramente pensate che poi la classe operaia vi segue? Papà è la classe operaia. Cioè lo vedi papà con la pistola? Cosa è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. E senza il vento, un vento freddo... Che fai, balli? Io sono uno completo. Ma che ti sono bastate tutte le mazzate che ti ho dato? Ti ho provato. Porta rispetto. Porta. Questa vita cos'è se manchi tu?